Salve a tutti ragazzi io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale Torniamo oggi su The Sims 4 ma ho deciso di fare un video un po' particolare Infatti voglio fare la top dei 10 oggetti che preferisco su The Sims 4 Prima di lasciare il video però vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate Vi ricordo anche che trovate il codice attivo Marucco su Pampling Pampling vende tantissime cose a tema nerd come la t-shirt che sto utilizzando oggi a tema Harry Potter E con il codice Marucco avrete le calze omaggio con i vostri ordini Mi raccomando passate da Pampling in descrizione Detto questo però vi lascio al video e buona visione E signori entriamo quindi in partita Premetto già che di oggetti su The Sims 4 me ne piacciono davvero tantissimi Ci sono addirittura interi pack di oggetti che sono per me insostituibili Uno fra tutti arredi da sogno Ma ragazzi pensando a quanto buildo e a quanto uso questi oggetti Ho deciso di dividerli e prenderne 10 Quelli che secondo me sono irrinunciabili in qualsiasi mia partita E quindi in realtà certo amo tantissimi oggetti Ma questi secondo me sono quelli che davvero mi vedete utilizzare praticamente sempre Partiamo dal primo oggetto Lui è una decorazione da muro che è stata aggiunta con The Sims 4 vita ecologica E che troviamo così e così Addirittura la troviamo in tre misure E ragazzi è irrinunciabile La uso tantissimo per fare ad esempio strutture fatte in questo modo E poi la utilizzo davvero in vari modi Faccio delle zone tipo separe Li utilizzo sempre Questo è uno dei miei oggetti preferiti Danno profondità ai muri Danno una texture Danno comunque quel colore legnoso che amo Poi io sapete utilizzo tantissimo le tinte abbastanza neutre in game E ragazzi questo è uno degli oggetti irrinunciabili E arriva dritto dritto nella mia top 10 Che non sarà a crescere In realtà non vado dal decimo posto al primo Sono però 10 oggetti importanti Guardate un po' che ho anche preparato la location Secondo oggetto irrinunciabile per me è lui Sempre aggiunto con un DLC Sì in questo caso oasi innevata Ma in realtà utilizzo anche quello che è stato aggiunto con l'università Parlo della doccia da muro Questa ragazzi è rinunciabile per me Dal momento che se tu metti la doccia E poi vai a fare qualcosa del genere Puoi davvero avere una doccia particolare La puoi anche arricchire con questi pannelli Che vi ho fatto vedere prima Con i vetri, con le finestre Insomma mi dà la sensazione di doccia più realistica Rispetto ad esempio alle docce che abbiamo su The Sims Come queste Queste sono già precostruite Prestabilite E per carità le uso e mi piacciono Però il fatto di avere la doccia a muro Mi permette di personalizzare Tanto tanto di più gli spazi nei bagni E quindi essere più creativo Quindi le docce sono diventate Uno dei miei oggetti preferiti Ovvero queste da muro Perché le utilizzo praticamente sempre Terzo oggetto E ragazzi questo è piccolo Eppure irrinunciabile Si accende la candeletta Le possiamo mettere dappertutto Da uno studio a un ristorante Da un salotto A una zona studio O magari scrivania Per le camere da letto Questo oggetto Aggiunto Con mangiamo fuori Secondo me è quasi irrinunciabile Lo utilizzo tantissimo anche all'esterno Per illuminare gli esterni Me lo vedete utilizzare sempre Sulle vasche da bagno in bagno Quindi in realtà magari metto la mensola Con questo oggetto Insomma È un oggetto che ricorre sempre Ed è diventato uno dei miei preferiti Perché appunto da quell'atmosfera È un oggetto molto molto classico Come vedete non uso oggetti estrosi Ma molto molto neutri È trasparente Poi per carità Possiamo anche cambiare un po' la texture Vi faccio vedere della candeletta E quindi magari mesciarla O abbinarla Al colore dell'arredo Ma di base L'oggetto mi piace Lo utilizzo sempre E mi dà tante tante soddisfazioni Quarto oggetto Molto molto nuovo Eh signori Non passa casa Non passa build In cui io Non metta Questo Signori E questo è la vita È stato aggiunto con il kit Delle piante Ed è un valore aggiunto Cambia qualsiasi angolo Due poltroncini Un tavolino Un libro E però questa roba che pende E ragazzi Cambia tutto Non ci vuole niente E quindi È diventato uno dei miei preferiti Insieme alle tende Però le tende In realtà Quelle quadrate Sono un po' troppo Forse anche too much Nel senso che Non le puoi mettere sempre Queste Per quanto siano bellissime Come struttura Mentre questo Che vi ho fatto vedere È un po' più discreto Carino Lo possiamo usare Un po' dappertutto Quindi insomma In realtà Mi piace di più Ovviamente lo possiamo ridimensionare Quindi fare in modo Che sia anche più piccoletto Più particolare O più grande Signori E quando lo si fa più grande Questo oggetto Beh Ti prende tutta la parete Insomma Sapete che mi piacciono le piante Ma soprattutto questa E nelle sue varianti È diventato un oggetto Quasi irrinunciabile Per me Quinto oggetto Arriva dritto dritto Dalla campagna Da vita in campagna E che cos'è ragazzi? La trave La trave Signori Che si può utilizzare In tutti i modi Sapete quanto amo Fare i pergolati Da me Se anche amo tantissimo I pergolati Gli ultimi aggiunti Con il matrimonio Sono la vita Ma Mi piace tanto Personalizzare i pergolati E di conseguenza Questo Va benissimo Possiamo fare i pergolati Possiamo arricchire i muri Quindi fare in modo Che diventi Anche che so Un battiscopa Se vogliamo E quindi renda Magari le nostre pareti Un po' più ricche Lo possiamo mettere Ad altezze diverse Possiamo fare di esso In realtà Non solo un battiscopa Ma per assurdo Anche Una piccola mensolina Messa da queste parti E poi abbiamo Un sacco di varianti Di colore legno Il legno Sapete mi piace tanto Quindi in realtà Questo oggetto È diventato Uno dei miei preferiti Irrinunciabile Lo uso tantissimo Non sempre Ma lo utilizzo E quindi è entrato A far parte Della mia top 10 Ovviamente ragazzi Manco ve lo dico Scrivete qua sotto Nei commenti Quali sono i vostri Dieci oggetti preferiti Su The Sims 4 Oggetti In questa classifica Non ci sono Né cose Della modalità Costruisci Tranne forse La trave Quindi non ci sono Porte Finestre Eccetera E neanche cose Del crown sim Si parla proprio Di oggetti Fatti e finiti E siamo già A metà dell'opera Fuori Uno Fuori Due Fuori Tre La doccia E la struttura Di legno In realtà ragazzi Non è vero Questo è il Sesto oggetto Ne mancano Quattro Nuovo oggetto Anche questo Arriva da oasi Innevata E da quando è arrivato A me Guardatelo un po' Nelle sue varianti Signori Io non utilizzo Più Le cassette Postali Classiche So carine Certo che lo sono Ragazzi Sono tanto tanto Carine le cassette Postali Però per me Hanno perso Qualsiasi tipo Di interesse Perché questa La possiamo mettere A muro La possiamo mettere Dove vogliamo Ha diverse texture Quando poi la posizioniamo Vedete c'è anche Il nome della famiglia Secondo me Questo è un oggetto Irrinunciabile Ed è perfetto E ormai Utilizzo solo lui Quindi in realtà Non poteva Non entrare In questa mia top Degli oggetti preferiti Altro oggetto Che arriva nella top È lui Non il bancone Della cucina Ma il fornello A induzione In realtà Con esso Anche l'altro Perché in realtà Mi piacciono Tutti e due Allo stesso modo Li reputo Entrambi Irrinunciabili Come oggetti Arredi da sogno Ha permesso Di modulare Le cucine Ecco Ora è davvero raro Che io metta Una di queste cucine Ragazzi Le metto Ma quasi mai Di solito Ormai faccio le cucine Con i banconi Tutti uguali Con lo stile Prestabilito Il colore Eccetera E di solito Ci metto O lui O lui E ragazzi Mi avete anche fatto notare Ed effettivamente è vero Che mi scordo sempre il forno Ormai i miei sim Non hanno più un forno Perché mi sono abituato A questa cosa E mi dimentico Di mettere il forno sotto Però ragazzi La cucina modulabile Quindi Il piano cottura così È secondo me Davvero la vita È un'ottima aggiunta E quindi non poteva Non entrare Nella mia top 10 Altro oggetto Che arriva da Oasi nevata E a cui io Difficilmente Rinuncio E lui Lo sapete C'è la meme Ragazzi I distributori Di sapone In tutti i miei bagni Quando mi ricordo Di buildarli Mea culpa C'è sempre lui Ragazzi Voi direte Ma serio Hanno messo pergolati Hanno messo i camini Hanno messo tantissimi oggetti belli Ed è vero ragazzi Sono d'accordo Concordo con voi E assolutamente Non posso fare il paragone Con il porta sapone Ci sono oggetti Molto più belli Su The Sims 4 Però Questa top È anche legata All'utilità E questo oggetto È impossibile Che io Non lo utilizzi È entrato nella top Ragazzi Ormai la meme del sapone Sapete com'è E quindi Eccolo Piccolo Semplice Ma creativo E sicuramente Quel dettaglio In più Che in bagno Manca Anche perché Ragazzi Non vi nego Quello che penso Penso che Penso che tra tutte le stanze Di una casa Su The Sims 4 Il bagno Il bagno Il bagno sia quello Un po' più povera Dovrebbero darci Più contenuti Per i bagni Ragazzi Firmiamo la petizione Penultimo oggetto Della nostra top È lui È nuovo È un nuovo acquisto È appena arrivato in famiglia Eppure è già diventato Uno dei miei oggetti preferiti La lampada Introdotta col kit Massimalista È tanta roba Mi piacciono i colori Si può mesciare Si può usare In diversi contesti È bellissimo il design Ed è qualcosa Che sto cominciando Ad utilizzare Praticamente Sempre Nelle mie build Quindi in realtà È un oggetto Di quelli irrinunciabili Perché Perché un po' Come vi dicevo Per la pianta Metti due poltroni Un tavolino Un libro Ci metti la pianta Che scende E la luce Così Quindi in questo lampadario E tu hai fatto L'angolino Perfetto Qualcosa da Davvero da brochure Se vogliamo Un espositore Di un mobilificio È perfetto E quindi ragazzi Questa lampada Ha giustamente Conquistato il mio cuoricino Ed è entrata Nella top 10 Ripeto Tanti oggetti Sono carini Su The Sims 4 Però questi Che vi sto facendo vedere Sono sì carini E quello è un mio gusto personale Ma allo stesso tempo Sono utili Per creare Delle situazioni Di building Che sapete È la parte Che mi piace di più Quindi in realtà Questa top È un mix Di utilità Bellezza Secondo i miei gusti Ma soprattutto Di utilità Ultimo oggetto Ma non meno importante Lui E ripeto Questa lista Non è fatta Dal primo posto All'ultimo Semplicemente L'ho tenuto per ultimo Perché sapevo E sicuramente Durante il video Qualcuno avrà detto Ma quando arriva Il cespuglio Di Salvadorada E signori Questo si commenta Da solo La texture Mi piace tanto È bellissimo Ma soprattutto È un oggetto Salva build Io l'ho sempre detto Con due di questi Ragazzi Voi salvate Tutta la situazione Ne mettete due Uno di fianco All'altro Guardate un po' Avete fatto tutto Potete nascondere Un angolino Della casa Che brutto Antiestetico Potete nascondere Anche gli oggetti Di debug Magari svolazzanti Potete creare texture E tridimensionalità E profondità Nelle vostre case Questo oggetto Anche questo È raro Che non lo vediate Nelle mie build Perché mi salva tanto E credo che le piante Facciano metà del lavoro Di ogni mia build E quindi in realtà Giardini Piante eccetera Sono irrinunciabili E questo oggetto È la prova È stato amore A prima vista Ancora non l'ho abbandonato Non l'ho mandato In pensione Sicuramente Questo E questo Se la giocano Sicuramente Ragazzi Questo può essere Il diretto concorrente Del cespuglietto Ma Sono oggetti Che davvero Trasformano Un angolo di casa Da così A così E voi invece Quali oggetti Utilizzate su The Sims 4 Quali sono I dieci vostri oggetti Preferiti Fatemelo sapere Qua sotto In commenti Io spero che questo video Un po' diverso Dal solito Vi sia piaciuto E ovviamente Vi invito a lasciare un mi piace E iscrivervi al canale Se ancora non vi siete iscritti Vi ringrazio Per essere arrivati Fino a questo punto del video Vi ricordo Che trovate il canale Alla fine del video Se ancora non vi siete iscritti E il video consigliato Io per questo video Però vi dico che è tutto Vi ringrazio Vi saluto E vi dico Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti